Nell'era della guida assistita, Landini è presente e protagonista, un merito traguardato anche grazie all'innovativo Advanced Driving System, il gruppo sterzo elettronico ad elevata tecnologia, che con l'ausilio di sensori posti sulla sala anteriore, garantisce un controllo totale e preciso del trattore. È infatti in grado di abbattere tutte le sollecitazioni esterne, tipiche dei terreni più irregolari o friabili, mantenendo autonomamente la traiettoria impostata dal conducente. Anche la guida diventa in puro stile automotive. Durante i trasferimenti il sistema irrigidisce il volante in modo proporzionale alla velocità e lo alleggerisce durante le manovre e tutte le operazioni che richiedono la massima agilità. Inoltre riporta automaticamente le ruote in posizione centrale dopo ogni svolta, proprio come sulla vostra auto. L' Advanced Driving System gestisce tutto questo in modo indipendente, senza la necessità di GPS o tecnologie ausiliari, ma è anche predisposta e compatibile al 100% con tutte le principali soluzioni di guida assistita presenti sul mercato.